Il nostro racconto non può che partire da qui, da Rione Lunovisi, perché l'8 maggio del 1906 Roberto Rossellini nasce in una lussuosa palazzina a piazza San Luscio, qui all'angolo con Via Nerva. Nasce da una ricca famiglia borghese industriale e il capostivide Zefilo Rossellini, lui che verrà chiamato nonno Zefilo, ma che in realtà non era un vero nonno di Rossellini, era un prozio, era un fratello del nonno di Rossellini, però sarà un po' quel capofamiglia classico di quelle classiche famiglie borghesi unite, allargate. Zefilo Rossellini arriva dalla Toscana a Roma all'indomani del 1870, quindi di Roma capitale, e Zefilo Rossellini è uno dei primi palazzinari di cui io e Silvia parliamo tanto male durante i nostri tour, perché Zefilo Rossellini comincia a costruire la nuova Roma, quella appunto che si sta espandendo da quando Roma è capitale del nuovo regno d'Italia. E una delle zone dove costruisce maggiormente sarà proprio il rione Ludovisi, quel rione che nasce alla fine dell'Ottocento dalla distruzione di quella che era una delle ville più belle, le ville nobiliari più belle di Roma, la villa Boncompagni Ludovisi. Apri la via Regina Elena, oggi via Barberini, un'impresa così complessa, difficile e tormentata che finì per togliere tanto ottimismo al suo spirito giovanile ed entusiasta della vita. Eccola qua questa è via Barberini, e quindi appunto segue le orme dello zio, costruttore, porta avanti l'attività e poi i Rossellini si spostano in un palazzo ancora più prestigioso qui, a via Ludovisi 16. Questa è la facciata attuale di via Ludovisi 16, dove altrettutto sarà importante perché diventerà anche un salotto intellettuale, perché Angelo Maria Rossellini in realtà era un borghese più intellettuale che industriale, perché sì, faceva il costruttore, però aveva doti artistiche, scriveva, componeva, diciamo la sua personalità forte, anche appunto gioviale, prorompente, sarà anche molto, influenzerà molto le carriere artistiche di Renzo, che conosciamo come noto compositore, e Roberto Rossellini. Un salotto dove passano appunto intellettuali, letterati, musicisti, e che quindi forma i giovani Rossellini. Quindi loro fanno parte di questa sorta di intelligenza borghese, che oltretutto non si comprometterà mai con il fascismo, guarderà sempre il fascismo dall'alto in basso, e quanto tacciato com'è un fenomeno di rozzi vivili. Questo spiega, anzi questo è spiegato da un episodio oltretutto emblematico. Di fronte a via Ludovisi 16 sorge l'Hotel Savoi, questa è una foto scattata il 28 ottobre 1922, giorno della marcia su Roma. L'Hotel Savoi sarà il luogo dove alloggerà Benito Mussolini, e anzi dopo la marcia su Roma lui si affaccerà dal volcone dell'Hotel Savoi, proclamando la formazione, annunciando la formazione del governo fascista. E ci racconta sia Roberto sia sua sorella Marcella che loro erano bambini, ragazzini, entusiasmati dalla folla sotto, il padre li ritirò dentro dicendo, badate bene, il nero nasconde lo sporco. Se vi ricordate dalle parole di Renzo, tra le varie edifici che Angelo costruisce c'è anche il Cinema Corso, che sorgeva in piazza San Lorenzo in Lucina, eccolo qua il Cinema Corso, una splendida opera di Marcello Piacentini, costruita tra il 1915 e il 1918, in stile secessione viennese, era molto particolare, anche molto avveniristica, con questa facciata non finita, i bow window, le vetrate colorate, la pensilina in vetro e ferro, ma anche negli interni, vedete questa grande volta senza sostegno in cemento armato, con la cupola che si apriva durante l'intervallo. Era così avveniristica che poi la commissione edilizia gli fece rifare la facciata a Piacentini a sue spese, perché contrastava troppo con tutto il contesto dei palazzi storici intorno. Perché vi parlo questo Cinema Corso? Cinema Corso e poi diventerà il Cinema Etual, forse qualcuno se lo ricorda, perché è chiuso negli anni 90, dal 2011 l'edificio è la sede espositiva della casa di moda Louis Piton. Perché ve lo nomino? Perché essendo il costruttore di questo cinema, aveva, Angelo Rossellini aveva avuto per il figlio la tessera gratuita per andare al cinema. Sarà quindi, come dice lo stesso Rossellini, così è nato il mio interesse per le cose del cinema. e poi...